L'occasione spesso è più bella perché arrivi con una testa diversa, con una consapevolezza, con un'esperienza, con un'età diversa e quindi è tutto più bello. Sei felice? Sono molto felice. Anche noi di averti avuto qua. I soliti gnoti tornano prestissimo! Vienimi a trovare, mollati, imperi e vienimi a trovare. Amadeus! Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie a tutti, grazie.